Prato è la decima provincia in Italia per un numero di reati commessi in percentuale agli abitanti. A dirlo è il Sole 24 Ore che nell'edizione di oggi pubblica la classifica delle città meno sicure d'Italia basandosi sui dati del 2013. Anche i dati confermano così quello che è sotto gli occhi di tutti, vale a dire l'escalation di criminalità nella nostra città. Prato chiude la top 10 delle città meno sicure con 5.841 delitti denunciati ogni 100.000 abitanti. Un numero in linea con quello fatto registrare l'anno precedente, la variazione, è del più 0,4% e questo rappresenta forse l'unico elemento positivo dell'indagine per la nostra città. La percentuale è infatti inferiore alla media nazionale, 2,6%, ed è l'incremento più basso tra quelli fatti registrare dalle prime dieci province della classifica che viene guidata da Milano davanti a Rimini e Bologna. Se andiamo a vedere le classifiche parziali, Prato si piazza al 27esimo posto per i furti in casa, all'undicesimo per i borseggi, al quinto per le rapine e al 43esimo per truffe e frodi. I dati del 2013 segnalano quello che anche quotidianamente i nostri cittadini ci mandano a dire, cioè che c'è la necessità di implementare un controllo soprattutto sui piccoli reati di strada che sono quelli che fanno arrabbiare la nostra comunità, la nostra gente. Noi al Fano sì chiediamo un impegno perché è vero che ci sono alcune forze di polizia che hanno ricevuto da parte del governo un rafforzamento in queste ultime settimane, ma è necessario che si intervenga in maniera decisa anche sulla questura, soprattutto anche mantenendo quella promessa che aveva fatto quando venne nel 2013 qui a Prato di stornare una parte dei soldi sequestrati alle mafie ai territori che ne sono coinvolti così come è accaduto a Prato.